Il calcio bianco-rosso torna protagonista dello sport del fine settimana. Nella trasferta di domenica, infatti, la Vispesaro ha sfiorato la vittoria contro il Pescara, chiudendo la partita con il risultato finale di 2-2. La prima frazione di gioco è terminata 1-1, con i ragazzi di Mister Banchini in svantaggio dopo due minuti dal fischio d'inizio. La situazione è stata poi sbloccata 30 minuti dopo, con il gol messo a segno da Cannavò su rigore. Sempre in parità terminerà anche il secondo tempo, con una nuova rete segnata da Rubin per i bianco-rossi, che dopo l'espulsione di Cannavò termineranno il match in 10, e con un ulteriore gol registrato anche dagli avversari. Un 2-2 che non lascia soddisfatto Mister Banchini, il quale ha commentato così l'incontro nel post-partita. Io sono rammaricato, da un certo punto di vista, vedendo quello che è successo in campo, perché la squadra ha reagito, e non solo a livello nervoso, ma ha reagito portando dei contenuti minuti. Secondo me cerco sempre di poi fare delle analisi analitiche, andiamo via da un campo come questo contro una squadra che ha grandissimi valori e organizzazione, con sei parate del portiere avversario, secondo me alcune veramente importanti, e con una prestazione dove nella fase centrale del secondo tempo mi sembrava di riuscire anche a dominare il gioco. È normale che se uno guarda solo gli ultimi 10 minuti, dove siamo in 10, rimaniamo con una linea 5 schierata e facciamo un blocco difensivo basso e vai a casa con un'idea diversa. Però sinceramente sono soddisfatto della prestazione, ma sono un pochettino ammareggiato per il risultato. In pareggio è terminato anche l'incontro tra il Tolentino e l'Alma Juventus-Fano. In Granata vengono sconfitti dagli avversari soltanto ai calci di rigore per 5-4. Risultato che permette al Tolentino di qualificarsi nel turno preliminare di Coppa Italia ad eliminazione diretta. Quella di oggi invece è una giornata importante per il basket e per la Carpegna Prosciutto Pesaro. Si è aperta questa mattina infatti la campagna abbonamenti per la stagione 2021-2022, che permetterà a chi sottoscriverà la tessera l'accesso alle 15 partite del campionato che vedranno impegnati i ragazzi di Coach Petrovic sul parquet casalingo. Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere allo spazio Conad in via Gagarin presso il WL Point del Pro di Sport Pesaro oppure online sul sito vivaticket.it. Nel frattempo la squadra, rientrata ieri da Brindisi al termine del Memorial Pentassuglia, si è subito rimessa in moto con gli allenamenti in palestra in vista del primo impegno ufficiale, previsto per sabato 18 settembre alle ore 12 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La WL si sfiderà contro la squadra vincente del Girone A nel match valido per i quarti di finale della Supercoppa 2021.